Prego. Mi sembra che c'è una cerimonia per l'enograzione della stella dedicata al poeta català Salvador Espio, ma un momento di silenzio per raccordare le vittime della tragedia nel canale di Sicilia e a voi e saluto tutta la città di Raghe, ma siccome il giunale ha diluto a Sassara, a Cagliari e all'altra scommunza della Sardegna. Mi raccomandiamo anche qualche spettacolo che è stato un giorno fa a Barzadona, una mignona che ha matato a mano a balestra un professore, la città della guerra ha raccordato e dà un impegno concreto per ciò che riguarda la situazione del Mediterraneo e la comunità internazionale. Decold, Amarcon Vittich e Musalfritti, lanci l'ascesso delle scommunze della Sardegna. Fermare un minuto di silenzio. Il signor Giamo e Sirana, il signor Gioseppe Luisa Lai, il signor Giovanni Asadella, il signor Mario Nieto, l'autorità, il signor Giuseppe Luisa Lai, il signor Giovanni Asadella, il signor Mario Nieto, Signor e signori, a voi siamo qui in una biblioteca magnifica, la Biblioteca del Mediterraneo, che è coberta grazie alla straordinaria collaborazione del municipio di Raighe che ama la facoltà di architettura, che ha anche la sua sede di Raighe, la sua sede di Raighe. Magari a voi raccorda l'atta di collaborazione che la società della Raighe ha firmata dall'Istituto della Cultura di Barcelona. E' scusato che l'Aggiuntamento di Barcelona e il municipio della Raighe vogliono impegnarsi, cooperare per portare avanti progetti di grazia della cultura, salcando le strategie delle migliori per permettere di crescere la collaborazione, per organizzare attività, culturali e benefici dei nostri cittadini, e di tutti i paesi della lingua e della cultura catalana. Abbiamo usato un significato particolare. La nostra comunità, la Barcelonetta di Saldegna, è una città che ti accorre con i paesi della lingua e della cultura catalana, che ti accorre la Catalunya. La collaborazione a Mabuzal, a Barcellona, è una collaborazione ampuntante. È la città di Barcelona, capitale di Catalunya, capitale di cultura. A voi ancora di me, perché cominciamo a collaborare in ambiti diversi. Una attenzione particolare sarà per i nostri territori, i musei, l'arciu, la ricerca accademica culturale, il turismo culturale, la cultura popolare e tradizionale. Sappiamo che la città di Deleghe e tutto il territorio tenono un ruolo assai importante di forte attrazione per i paesi della lingua catalana. La vostra presenza neanche è una conferma.